Leatrice Amara, responsabile dei riaggi di Bioversity, una delle più importanti no profit internazionali che si occupa della conservazione del patrimonio genetico delle piante. Che cosa può fare un responsabile per attenersi alle indicazioni delle aziende che sono sempre quelle accidenti di tagliare e contenere i budget per i riaggi d'affari? Contenere i costi, in questo caso ci sono varie possibilità, prima potrebbe essere importante la negoziazione con i vettori, la negoziazione di corporate, la seconda che noi puntiamo moltissimo è il best buy, comprare il biglietto alla tariffa più bassa e poi la terza che è importante non è tanto un cost saving però è un customer service che noi diamo ai nostri colleghi o chi viaggia, tanto il best buy cercando di accontentarli sempre le loro esigenze, sempre inerente alla travel policy. E' importante, noi puntiamo molto sul best buy anche perché riusciamo a fare un'emissione, l'anno scorso abbiamo emesso il 80% dei biglietti a tariffa più bassa e questo è un ottimo risultato, monitorando quotidianamente le prenotazioni anche perché le compagnie aere sono sempre più restrittive sui time limit e sulla richiesta di emissione di biglietti immediato. E' la prima volta che viene a Bistola World Forum? Sì, la prima volta è fortemente voluta perché mi interessavano tutti i topics che venivano discussi in questi due giorni ed è molto interessante poter avere il confronto fisico con le realtà del nostro lavoro quotidiano e poter parlare di esperienze, le stesse esperienze, avere la possibilità di avere il riscontro con i nostri fornitori, sentire un attimino tutte le varie opinioni e tutte le varie sfaccettature del nostro lavoro e questo è fondamentale, ci arricchisce molto, è molto interessante.